Finanziaria regionale, 5 punti messi sul piatto dal Partito Democratico, come intervenire? Intanto partiamo da un'agenzia unica per lo sviluppo. Oggi abbiamo più soggetti gestori, abbiamo Sviluppo Italia, abbiamo Abruzzo Sviluppo, abbiamo Fira, abbiamo per quanto riguarda la formazione, l'agenzia di formativa pubblica che sta a Chieti, il Ciapi. Noi vogliamo che diventi unico soggetto che è organizzato, strutturato, snellito, che faccia lo sviluppo. Cosa che non accade in Abruzzo o accade parzialmente. Seconda questione, l'unica agenzia per la casa, abbiamo ancora 5 ATER commissariate che rimangono lì e che non costruiscono mezzo metro di nuova abitazione pubblica, soprattutto per i giovani che non hanno la possibilità né di sposarsi né di convivere perché il problema è il dramma della casa. Terza questione, noi crediamo che bisogna passare dalle 6 attuali società di gestione dell'acqua a una sola e sappiamo che cosa significa. Se noi vogliamo garantire la presenza pubblica dobbiamo fare in modo che il pubblico venga riformato altrimenti 6 società di gestione saranno fagocitate poi dal privato e questo è il rischio. Poi noi vorremmo introdurre una norma in Abruzzo che vale a livello nazionale ma in Abruzzo no. Gli amministratori delle società pubbliche devono sapere che una volta che vengono nominate, se per due anni presentano bilanci negativi, poi vanno a casa. Ultima questione, tra le altre che noi abbiamo presentato, è la partita relativa alle società di trasporto pubblico. Sono ancora, dopo 5 anni, 3 società, San Gritana, GTM, ARPA, che operano anche tra di loro in modo competitivo sul trasporto su gomma. Noi vogliamo una società unica dei trasporti, gomma-ferro, perché tra un po' arrivano le gare e se non ci attrezziamo noi con un soggetto che quelle gare le può vincere, parlo del trasporto pubblico locale, poi arriveranno dalla Francia o da Milano o da altre parti che ci vengono a fagocitare e poi non copriremo più l'Abruzzo perché per esempio le tratte non convenienti, quelle delle zone interne, non saranno coperte. In un solo giorno si può fare tutte queste cose che sono state annunciate. Tutte queste cose non comportano un euro di spese in più ma anzi fanno risparmiare l'Abruzzo. Vedremo cosa farà Chiodi.